Per tutti coloro che non amano l'aceto, oggi prepariamo le melanzane sott'olio macerate senza aceto. Per questa preparazione mettiamo a macerare le melanzane insieme al sale e al succo di limone filtrato. Se la buccia non è trattata non gettate la via ma utilizzatela per altre preparazioni. Sciacquiamo prima le melanzane e poi eliminiamo la buccia. Le tagliamo a filetti e poi le andiamo a inserire in un barattolo alternando strati di melanzane con sale e succo di limone. Potete tenerle a macerare anche in un'insalatina, l'importante è che mettiate un peso sopra. Le melanzane devono essere interamente coperte dal liquido. A questo punto le lasciamo macerare per 24 ore sotto limone e sale. Il giorno seguente le melanzane si saranno sbiancate tantissimo. Prima le scoliamo, poi le dobbiamo strizzare bene. Possiamo utilizzare sia un torchietto che sarebbe la soluzione migliore oppure uno schiacciapatate ma potete farlo anche con le mani. Una volta strizzatele andiamo a condire. Aggiungete gli aromi di vostro gradimento, aglio, peperoncino, origano, menta, quello che gradite. Se sono freschi vi consiglio di sbollentarli un po' nell'aceto. Un goccio di aceto comunque glielo aggiungo perché un po' di sapore mi piace. Mescoliamo e poi andiamo a riempire i vasetti precedentemente sterilizzati. Ricordatevi che i barattoli vanno riempiti lasciando libero questo spazio. Aggiungiamo l'olio. Con il cucchiaino facciamo uscire anche qualche bolla d'aria. Lasciamo il vasetto scoperto per qualche ora. Verifichiamo che il livello dell'olio non sia sceso. Nel caso effettueremo un rabucco. Trascorso il tempo ripoliamo bene il collo del barattolo. Chiudiamo con la capsule e possiamo riporre direttamente in dispensa.